La macchina è esplosa Il 23 settembre 3007 avanti Cristo Quando quel meteorite impattò sulla terra Porca paletta, Midge Campbell È stata grande in quel film della vagabonda nel bordello A cui viene un'amnesia e diventa pediatra Era così autentica Forse tra i tanti è il mio personaggio preferito Non so perché non è piaciuto a nessuno Cosa indicano questi impulsi? Cosa? Oh, Pippa e Lucette, non lo sappiamo Credo che alcune delle nostre informazioni Sullo spazio profondo non siano più così esatte Ma ancora ci sono nove pianeti nel sistema solare, Billy? Ora però c'è un alieno Che cosa succede? Non lo so Non mi piace il modo in cui ci guardava Un alieno È come ci guardava Come se fossimo spacciati Forse lo siamo Ho informato il presidente Quanto possono trattenerci ad Asteroide City? Intendo legalmente Il mondo non sarà mai più lo stesso Un alieno che salta la corda Un alieno col cappello Che c'è la cuore? Il senso della vita Forse ce n'è uno Sei sposato? Sono vedo Ma non dirlo ai miei figli Nostra madre è morta tre settimane fa Diciamo che è in cielo Che per me non esiste È ovvio Ma voi siete episcopali Nella mia solitudine Ho imparato a dare completa E incondizionata fiducia Alle persone che amo Non so se fra queste ci sei tu Ma di sicuro ci sono mia figlia E i vostri quattro figli A volte credo che mi sentirei più a casa Fuori dall'atmosfera terrestre Oh wow Anch'io Sono strani, è vero? I vostri figli Rispetto alla gente comune? Sì Esatto È vero Faccio una scena di nudo Vuoi vederla? Ho detto sì? Non hai detto niente Volevo dirlo Ma la bocca non ha parlato Volevo dirlo Volevo dirlo Volevo dirlo